Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Allora qual è il piano? Ma il piano? Che un tempo era divertente e sai quando parlo di un tempo? Parlo di quando andavo su Among Us e Thomas mi giftava 50 sub ogni 5 minuti. Lì, devo essere sincero, lì mi divertivo ancora su Among Us. Poi ho smesso di divertirmi quando mi sgozzavano. non era quello che andava o no sano morto creato l'ho trovato io ma non posso fare più nulla aiuto 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 zappa 14 al cuore al cuore al cuore faremo mai qui è l'ultima realtà c'è stato niente niente ho visto l'inizio di un insieme ma ci hanno rubato le cose ci hanno inculato le armi l'ultima realtà c'è stato marzo ma non ci sono arrivato pure io pure io già e ma marzo ma quello è lo stesso discorso di coso è no no io guarda che adesso l'ho fatto però fermandomi l'ho fatto fermandomi sopra quel coso e quindi forse non avevo speed per quel ma carena ma sapete che secondo me perché non l'ho fatto regà perché sbagliato invece dopo che fai il saltone marzo secondo me te devi frenare torna alla fine però è la storia più romantica di questa quindicesima giornata di serie a team andry shevchenko affronta ad avversario la squadra di cui il secondo miglior marcatore e con cui ha vinto il pallone d'oro nel 2004 tra chi uno ci prova capito uno ci prova a memare sul meme per poi renderlo un meme morto e poi c'è lui tipo tu prega il tuo dio che io prego chi deve ma chi è questo ma chi è questo scusa ma questo è quello di prima che stava recensando lì a lion ma chi è questo perché è diventato un meme questa la faccia di questo tizio che cazzo ah ma è george floyd questo non l'ho mai fatta per esempio non so cos'è i'm bad dig by the light spotlight era stata così prima devi stare al centro tipo no ma non se sono inventati sta cosa qualcosa giallo prima donna vabbè però ma devi saltare anche devineva il cosa e si è esposta furioso fuliginoso lo sdrogo di questa mappa vabbè però pare chillong vai marzo stai a chi la quanti si qualifica non 19 bello marzo bello marzo no no ma che cosa ho una traccia 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 io so tutto però prima vi faccio parlare spero che non ce la fai in modo goliardico te se ama spero che tu madre more sempre in modo in modo goliardico e ci mancherebbe altro se domani fa in incidente fra testa appolo champagne rozzi modo con le goliardico ovviamente ce mancherebbe altro sì no sì 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 no sì 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 no sì 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 tera这是 Pazza Ken secondo me è forte Quant'anni c'ha Ken? Bernardeschi La caca Bernardeschi con sinistro Diavara non la tiene Ken Sull'esterno della rete Avanza palla al piede Rabiot C'è sempre Morata Rabiot fa tutto lui Sinistro Diavara non la tiene Poi diavara Un miracolo su Ken 20 secondi del tempo mio C'ha le sovracceglia del zium sui soci Sta gente Maradona era L'uomo del popolo L'uomo del amico suo L'uomo del amico suo Uno di noi Lo sapete che vi dico M*****